Nel fine settimana assisteremo al cambio della massa atmosferica dall'anticiclone caldo nordafricano a correnti più fresche che arrivano dal nord Europa. Ancora per la giornata di sabato prevalenza di sole, bel tempo e gran caldo sulla regione con temperature massime prossime ai 38 gradi in pianura, 35-36 sulla costa, minime di 28 sulla costa, 23-24 in pianura. Sui monti variabilità sulla fascia alpina dove sarà possibile qualche rovescio, qualche temporale, meno probabile invece sulle zone prealpine dove dovrebbe prevalere il soleggiamento. Temperature anche qui piuttosto alte nelle valli con massime intorno ai 30-32 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domenica, al mattino variabilità in montagna dove sarà già possibile qualche isolato rovescio, mentre su pianura e costa avremo ancora prevalenza di sole e caldo, caldo che nel pomeriggio porterà le temperature su pianura e costa intorno ai 35-36 gradi però con una certa ventilazione di bora. Sui monti dal pomeriggio temporali diffusi che poi la sera arriveranno anche su pianura e costa e potranno essere localmente anche forti. Nella giornata di lunedì un deciso miglioramento con cielo sereno su tutta la regione, atmosfera fresca e secca, venti di bora moderati in pianura sostenuti sulla costa. Bel tempo anche martedì. Dall'Osservatorio Metodo Regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.